Il deputato Marco Osnato ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ci troviamo oggi per adempiere un obbligo normativo. Uso, sottolineo il termine adempiere perché vede, se io fossi un professore, e per il mio passato da studente non potrei esserlo, evidentemente, avrei definito quello che il Governo ci ha presentato come un compitino. Un compitino striminzito, un compitino fatto proprio perché bisognava in qualche modo presentare un documento. Non certo quello che una situazione eccezionale, assoluta come quella che stiamo vivendo, avrebbe meritato. Perché vede, se dovessimo analizzare l'utilità di una nota come quella che affrontiamo oggi, dovremmo riferirci al fatto che appunto aggiorniamo rispetto a un periodo passato dove gli effetti della pandemia erano ancora marginali oppure addirittura non c'erano. E quindi oggi, se dovessimo appunto rivedere le previsioni, riqualificare gli obiettivi, dovessimo rivedere i saldi, dovessimo appunto, come si diceva prima, rivalutare gli ambiti di manovra del triennio, dovremmo scrivere qualcosa di molto diverso. Perché non lo dico io, l'ho letto appunto nel documento della Nadef e l'ho sentito anche dalla lunga e, come ha definito qualcuno, completa relazione dei redattori. Insomma, ci sono stati degli indicatori economici drammatici. Il crollo del PIL è evidente a tutti, l'aumento della pressione fiscale è anche questa, sebbene mascherata con parole edulcorate, è presente. Oggi la CIN si dice che ci sono stati persi in questi sei mesi 110.000 posti di lavoro, al di là del divieto di licenziamento e anche questo si cerca di nasconderlo. Quindi evidentemente tutto preciso e ben compilato, però pochissimo attinente alla situazione in cui noi oggi ci troviamo a definire il nostro lavoro. E allora è chiaro che tutto ruota intorno a questa situazione eccezionale che prevede anche misure eccezionali. E allora abbiamo il record di Fanda, abbiamo questi 208 miliardi di euro che sono divisi tra prestiti e sovvenzioni, perché ricordiamolo, come ha detto oggi giustamente Giorgia Meloni, non è che sono soldi che cadono dal cielo, sono soldi che noi restituiremo, su cui impegniamo le generazioni future, oltre che le attuali, sulle quali in gran parte abbiamo già contribuito con i soldi che l'Italia dà all'Europa. E quindi intorno c'è questo piano nazionale di recupero e resilienza, insomma con tutte belle parole che vengono utilizzate per definire poi programmi che sono impegni che noi dovremmo prendere nei confronti dei cittadini. Allora la Commissione Europea ci chiede delle riforme rispetto appunto agli indirizzi presentati che derivano da raccomandazioni della stessa Commissione Europea. Se dovessimo leggere quello che c'è scritto nella Nadef, però noi vediamo tanti bei titoli, però poi vediamo pochissime risposte concrete. Si parla di riforma fiscale e io voglio capire qual è la riforma fiscale, perché ho sentito tante interviste da parte del Ministro Gualtieri, da parte di Vice Ministri, da parte di esponenti autorevoli della maggioranza, da parte anche, e devo dire con dovizia di particolari, a differenza di altri invece, da parte del Presidente della Commissione Maratin, che almeno ha avuto il pregio di essere chiaro sulla prospettiva che lui pone. E allora io mi chiedo qual è lo status, qual è la prospettiva che noi ci vogliamo evidenziare? Quello di mantenere uno status quo, quello di avere ancora un sistema fiscale totalmente ingessato, dove il cetto medio è stritolato. Se pensiamo che il 12,28% dei contribuenti, che sono quelli tra i 35.000 e i 55.000 euro lordi, stiamo parlando lordi, paga il 57,88% del montante IREF di questo Paese. Vogliamo continuare ad ammazzare fiscalmente la classe media lavoratrice di questo Paese? Come possiamo andare incontro a ulteriori benefici tra le persone più disagiate economicamente, se già il 45,19% dei contribuenti, cioè coloro che arrivano fino a 20.000 euro di reddito, pagano il 2,62% di IRPEF? Troveremo altre modalità di vicinanza sociale a queste categorie, ma non possiamo agire ancora su un sistema che, ripeto, è strabloccato da evidenti difficoltà di manovra. Abbiamo, peraltro, anche le classi più, chiamiamole privilegiate, se vogliamo usare questo termine, più abbienti, quelle da 100 a oltre 300.000 euro, che sono l'1,13% dei contribuenti, che paga già quasi il 20% dell'IRPEF. E qui sta quella cifra economica che dovrebbe servire a essere volano di consumi e di sviluppo del Paese, che comunque rimane ingessato da aliquote, che comunque, benché in posizioni privilegiate, sono ancora alte. E vogliamo parlare dell'IVA, che è ancora quella vacca da mungere, che continuiamo a mantenere in una situazione anche piuttosto complessa, quattro aliquote con prodotti simili che vengono soggetti a aliquote diverse. Io ho potuto sperimentare durante il lockdown, quando come molti di noi mi sono servito di prodotti da asporto, che se prendo un panino ha un'IVA, se prendo anche la Coca-Cola ha un'altra IVA. Allora forse sarebbe meglio pensare anche a una normalizzazione di questo tipo di imposta, magari cercare di renderla più semplice e magari trovare molte più esenzioni su prodotti magari di largo consumo necessario, anche perché, siccome ci citate sempre la necessità della progressività delle imposte, io non vedo, già non la vedo nella nostra modalità di riscorsione dell'IVA, perché la vedo ancora ovviamente meno nell'IVA, magari troviamo formule in cui si dia anche una certa equità fiscale, anche con una progressività diversa. E lo dico perché evidentemente noi le proposte le abbiamo fatte, a partire dalla flat tax, che non è una proposta di quattro cavernicoli, lo volevo dire perché ogni volta che si cerca in qualche consesso di parlare di flat tax, sembra sempre che siano quattro cavernicoli che arrivano e dicono una cosa impossibile. L'abbiamo spiegata, continuiamo a spiegare che ci sono anche le compatibilità economiche per portarla avanti e quindi su questo noi vorremmo incominciare a discutere veramente, magari non con un post su Facebook o con un'intervista l'ennesima di un ministro. Poi c'è tutto il tema anche della fiscalità, che riguarda appunto anche le novità che stiamo discutendo oggi a livello europeo. Io a certe volte, Presidente, mi chiedo perché veniamo accusati di non credere all'Europa e nessuno mai accusa l'Europa di non credere in noi. Perché vede, c'è un tema. A noi vengono richieste le riforme del sistema fiscale. Ma perché nessuno ha mai chiesto a un Paese, per esempio come l'Olanda, di provare a riformare equamente anche il suo fisco? Perché vede, in un Paese che sinceramente dal punto di vista della produzione industriale non è che sia proprio sul podio mondiale, famoso sicuramente per la coltivazione di tulipani, di qualche vetrina ambita da molti giovani europei, però vede, attira e, tra virgolette, ruba anche risorse italiane, attirando con fiscalità di vantaggio, che non dovrebbe essere concessa soldi che sono degli italiani e della produzione italiana. E poi parliamo di evasione, parliamo di evasione fiscale. È vero, è un problema nazionale, endemico, nessuno l'ha mai negato. Però vorrei chiedere se per caso dobbiamo insistere a finanziare, perché lo abbiamo fatto anche quest'anno, in modo incisivo, in modo importante, stanziando somme imponenti equitalia, per avere poi i risultati che abbiamo, per avere la solita vessazione nei confronti delle solite categorie che o sbagliano o magari anche in malafede cercano a girare il fisco, ma sono sempre quelle che sono già nel sistema, che già con la fatturazione elettronica, con tutto quello e le complicazioni che avete voluto mettere in questi mesi, sono già ampiamente seguite e non pensiamo di uscire da quel sistema e andare a cercare l'evasione, l'illusione fiscale vera e reale, che è quella che poi porta veramente il rientro di risorse importanti. E allora l'emersione del nero, cosiddetto, deve essere reale, deve essere peraltro un'emersione conveniente anche a chi in questo momento appunto sta cercando di eludere il fisco. Allora io penso al contrasto di interesse, penso a tutte quelle vere manovre che possono rendere il cittadino e il contribuente contento, come diceva qualcuno in passato, di pagare le imposte, di pagare le tasse, di pagare tutto ciò che appunto lo Stato gli chiede. E non è certo con limiti al contante e con le lotterie degli scontrini che si può ottenere questo. Si parla di valorizzazione del patrimonio pubblico. Beh, io sono intervenuto, credo, a una delle prime commissioni finanze chiedendo quali erano le prospettive della valorizzazione del patrimonio pubblico. Non ho visto ancora il risultato tangibile di una valorizzazione del patrimonio che è lasciato spesso purtroppo marcire nel nostro Paese. Ho sentito e ho letto parlare di sanità pubblica da riqualificare. Bene, anche qui, credo che possiamo anche uscire dal ennesimo equivoco del MES. L'abbiamo visto ieri in aula. Avete, per fortuna, deciso di non accedere al MES. Noi ne siamo contenti. Ma c'è anche un altro tema. Nella nota voi scrivete che la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ci presta 2 miliardi che sono il due terzi del necessario a quanto previsto dal vostro decreto rilancio. Quindi, evidentemente, non sono in questo momento necessari i 36 miliardi che non sapremmo probabilmente, mi dispiace anche per l'onorevole Brunetta, come spendere e dove investire in sanità. Saranno molto meno in questo momento quelli necessari. Ci sono già, eppure ancora non abbiamo capito quali sono le vostre proposte sulla sanità pubblica. Sulle politiche dell'occupazione. Certo, c'è la casa integrazione. Meno male che c'è stata. Meno male che avete seguito anche molte indicazioni che da questa parte sono venute. Alcune non le avete seguite e c'è ancora gente che aspetta, giustamente, di avere il ristoro. Però, sulle politiche dell'occupazione non ci si può affermare, appunto, al sussidio giusto e legittimo della casa integrazione. Quali sono le opportunità di sviluppo? Il contributo del 30%, la decontribuzione del 30% alle industrie del sud sull'occupazione? Sì, se ci fosse stata necessità di occupazione al sud. Purtroppo, in questo momento, al sud servivano investimenti strutturali per creare aziende che poi assumessero. Casomai le decontribuzioni servivano dove l'occupazione c'era. Cosa si è fatto sull'imprendentura giovanile? Cosa si è fatto per creare certezze nei giovani in modo che poi vadano anche incontro a delle certezze nella loro vita, non solo professionale, ma anche personale, familiare e magari mettano su la benedetta famiglia che poi magari è anche un antidoto alla crisi demografica e così magari si interviene anche sulla platea di coloro che devono pagare le pensioni ai nostri anziani. Come pensate che si vada verso una normalizzazione anche di questo sistema ma se non si danno certezza ai giovani per avere la loro certezza. Sulla scuola il piattume è più assoluto. Io ho partecipato e li ringrazio molto sabato mattina a un incontro di gioventù nazionale davanti al Ministero nella quale si è chiesto al Ministro cosa stia facendo in questo momento per la scuola. Non abbiamo risposte né in aula né fuori dall'aula. Sull'investimenti pubblici è citato come grande tema di sviluppo lo sblocca cantieri. Questo è l'unico vero. Io ho sentito l'On. Fassina parlare di investimenti pubblici. Dove sono? Quali sono? Qual è il programma di investimenti pubblici in questa nazione? Io non l'ho visto. Così come sull'infrastruttura, sulla giustizia che è un tema che l'Europa ci chiede per usare una frase che piace a molti qui dentro come grande pietra miliare c'è il processo telematico. Non la certezza dei tempi, la certezza del diritto la certezza di chi appunto vuole magari dall'estero venire a investire in Italia avere certezze su come può fare imprenditori in Italia. C'è il processo telematico. Questa è la risposta alla riforma della giustizia che voi date. Allora, e concludo, il richiamo alla responsabilità collaborale non può essere una pedissequa a condiscendenza a delle indicazioni che vengono dal governo, dal premier Conte. Noi vogliamo poter discutere, vogliamo poter migliorare quei provvedimenti, vogliamo poter mettere a frutto il lavoro che tanti di noi qui e nei territori fanno da altri. Non abbiamo paura, peraltro, di scelte anche importanti. L'abbiamo dimostrato prima e lo dimostreremo anche oggi. Noi non abbiamo paura dello scostamento, non abbiamo paura di fare debito se questo debito è per la crescita e non per le marchette. Noi siamo a disposizione di questo Paese se vogliamo farlo crescere. Quindi se perseguirete gli obiettivi di crescita appunto per la nazione noi ci saremo, saremo al fianco degli italiani. Se farete invece i burattini di coloro che vogliono tirare le fila negando le vere necessità degli italiani allora ci troverete sulle barricate qui e fuori di qui. Grazie. Grazie.